Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Oh, la crisi, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone a fare vecchio dice, ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, oh, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, capirà la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il cavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione dalla parte del leone e chissà, che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danaro. La crisi! Oh, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Parapapapapapa! Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà, parapapapapapa, che la crisi passerà. E perfino la donna bella alla crisi si intonò e per far la linea snella digiunando sospirò. Ah, la crisi! Oh signora, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Parapapapapapa! Ma cos'è questa crisi? Mangio un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà, parapapapapapapa, che la curva tornerà. Parapapapapapapa! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi c'è gli ali? Metta fuori circolare, miei signori! E chissà, parapapapapapapa, che la crisi finirà! Parapapapapa! Paradapapapa! 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 ontoWhyo! Grazie.